Tutto il giorno c'è la paura. La persona che dorme in mezzo alla strada non lo sa che è successo da qualche momento. All'altro prendono quello che vogliono e mi basta. Uscito da casa ero piccolo, quasi 11 anni. Facevo tanti sport, ma ora non posso fare niente. Mi manca la sport perché sono stanco. Ho passato quattro anni. Avevo in mezzo alla strada. Fra tre ore il sole si va, scende la notte. La notte, lo sai, tante cose erano diverse. Qualche volta mi metto a piangere, ma non lascio nessuno a me. Vito e Valeria hanno mai trovato una persona come loro. Cercano le persone che vogliono aiutare. C'è un centro, vuoi fare la doccia, vuoi mangiare, vuoi calmare. Un po' di compagnia, vieni con noi. Ti aiuta per abbassare il tempo e non guardare la strada. Io voglio camminare avanti, ma non ci credo. Con la tua donazione potrai aiutare Mario e altri bambini e ragazzi come lui. Come si può avanti. Come si può avanti. Con la tua donazione potrai, ma non bisogna soectare.